tenere il conto dell'età che cos'è il sentire commento il sentire non è sapere dove siamo che ora è ricordare il proprio nome e cognome tenere il conto dell'età il sentire vedere il tuo piccolo mondo meravigliosamente dilatato in frammenti di luce e vedere in un pomeriggio d'inverno il riflesso rugginoso di un lampione non sul muro sporco del tuo palazzo ma nel cielo immenso il sentire e vedere un animaletto con le zampette ripiegate che si finge morto e crederlo assoluto come te